E' Palazzi che si appresta a battere questo calcio di punizione, è partito il tiro, è colpo di testa di Pagliari che segna la rete, questo calcio di punizione, è partito il tiro, è colpo di testa di Pagliari, con i Pecorari in avanti, De Napoli, Fabri, Fabri, al limite dell'area parata di Marchisio. Di testa è stato di destro, Zanoni, stop di petto, c'è un fallo di mano dell'arbitro, parte Melotti, lentamente, tiro e gol, Zanoni, il cross di Zanoni, colpo di testa e la palla finisce in rete, colpo di testa e la palla finisce in rete, in avanti ora con Zoratto, Zoratto per Fabri, tiro di Fabri, sente il palonetto.